Buonasera a tutti e tutte, io sono Leonardo Bianchi, news editor di Vice Italia e qui con me c'è Vuming Uno che è autore di molti libri come singolo e anche come collettivo, ricordo giusto un paio, Q ovviamente perché cade il ventennale quest'anno, Proletcult e Vuming Uno tra poco uscirà in libreria con un romanzo che si chiama La macchina del vento. Il tema dell'incontro di stasera sono le teorie del complotto, come nascono e come si affrontano. Io farò una brevissima introduzione in cui parto da una cosa personale, tre anni fa ero seduto dalla parte del pubblico e qui dietro, qua dove stavamo noi, c'era un convegno sulle scie chimiche che era patrocinato anche dal comune, per un po' è stato patrocinato al comune di Perugia. Il titolo era appunto scie chimiche, geoingegneria e manipolazione climatica, relatori, biologi in pensione, ex marescialli dell'aureonautica, membri di associazioni e ovviamente fantomatici ricercatori indipendenti. Prove portate per l'esistenza delle scie chimiche, analisi di laboratorio dell'acqua presa dalle pozzanghere in giro per l'Italia. Chiaramente è una cosa su cui si può ridere sopra, però le cose sono molto più complicate, come spiegherà Vominguno, perché è facile squalificare chi crede nel teore del complotto come un matto fuori dalla società ed è facile tracciare una divisione netta tra noi e loro, però appunto le cose non sono così semplici. Ad esempio un libro recente, uscito recentemente in Italia, che si chiama Menti sospettose di Rob Broderdon, dimostra come i complottisti non sono poi così tanto una parte marginale ed emarginata della società, ma tutti noi potenzialmente potremmo essere dei complottisti e almeno una volta nella nostra vita probabilmente abbiamo creduto a qualche teore del complotto volenti o nolenti. E soprattutto è anche la politica stessa a usare le teorie del complotto e a crearle al fine di screditare gli avversari o anche per fare propaganda. Faccio un esempio su tutti, ci sono almeno due ministri di questo governo, Salvini e Fontana, che negli anni scorsi hanno più volte ripetuto le teorie del complotto della sostituzione etnica o del genocidio della razza bianca. Perché tutto questo? Le risposte come vedremo non sono semplici, però secondo Broderdon appunto la mentalità complottista è molto più comune di quello che si possa pensare ed è contraddistinto anzitutto dal fatto che vede, cioè la teoria del complotto è un'ipotesi generale, una serie di ipotesi su come funziona il mondo. E poi allo stesso tempo proprio per questo è un sistema di pensiero complesso dopo il quale una volta varcata la soglia diciamo che credi a qualsiasi altra cosa. Il complottista non crede mai solo a una teoria del complotto ma prende tutto il pacchetto completo. E sopra ogni cosa, e poi passo la parola a Vuming 1, una delle tendenze principali del complottismo, se non la principale, è quella di ridurre i conflitti storici, sociali e anche politici a uno scontro millenaristico tra il bene e il male, dove ovviamente chi crede nel terriere complotto è dalla parte del bene. Il caso da cui parte Vuming 1 adesso è il caso di QAnon, che spiegherà in dettaglio, ed è la probabilmente la più clamorosa rappresentazione recente di come nasce, di come si diffonde una teoria del complotto e anche allo stesso tempo di come si può contrastare. Quindi detto questo io lascio la parola a Vuming 1 e vi auguro un buon ascolto. Allora, se mi date il quadro... Ecco qua. Allora, siamo un po' in ritardo, i tempi sono stretti, voi siete anche stanchi, io potrei fare due scelte alternative o due opzioni, cercare di raccontare questa storia per intero andando molto veloce oppure raccontarla con il passo che ritengo necessario e dove arrivo, arrivo e poi continuo online. Penso che farò la seconda cosa. Come nasce una teoria del complotto e come affrontarla? Il caso QAnon. Perché proprio questo caso qui? Intanto perché è il più recente ed il più eclatante, perché è un fenomeno di massa negli Stati Uniti e poi perché come Vuming ci siamo trovati coinvolti, come vedrete, cioè siamo parte in causa, ci siamo ritrovati dentro questa storia di QAnon e sto per raccontare come e come ci siamo comportati in quel frangente. Però inizio con il romanzo Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, di cui è appena trascorso il trentennale dell'uscita. QAnon è esploso come fenomeno di massa proprio nell'anno del trentennale del pendolo di Foucault. Noi abbiamo ritenuto questo significativo. Per chi non lo sapete il pendolo di Foucault è proprio un romanzo sulle teorie del complotto. Ci sono tre redattori di una casa editrice milanese, la Garamond, che ad un certo punto si ritrovano sommersi di manoscritti inediti, di stampo complottistico, esoterico, occulto, perché il loro editore vuole fare soldi inaugurando addirittura due nuove collane di questo genere, una seria, tra virgolette, e una per autori a pagamento. Siamo negli anni Ottanta, siamo all'inizio degli anni Ottanta a Milano, c'è il riflusso, è finito il ciclo di lotte dei grandi movimenti sociali seguiti al 68 e molte persone che prima appunto compravano i libri della nuova sinistra, le poesie di Mao Tse Tung e cose del genere cominciano a comprare i libri di psicanalisti guru, di new age, di esoterismo, di occultismo, cose del genere. Quindi l'editore Garamond nasa all'affare e chiede a questi tre, che sono tre persone molto colte, di seguire questa cosa, loro vengono inondati e ad un certo punto come strategie di resistenza umana, di resistenza culturale, che cosa fanno? Cominciano a giocare con questo materiale, si rendono conto che tutti questi autori di questo ciarpame occultista, esoterico e complottista, si citano tra loro, simulano un apparato di note, di bibliografie, di verifiche, però alla fine fanno tutti riferimento agli stessi testi e si crea questa risonanza in cui si confermano l'un l'altro e loro cominciano a giocare con questi rimandi, con questa rete di riferimenti e cominciano a collegarli tra loro per creare una grande meta teoria del complotto, la più grande teoria del complotto di tutti i tempi che include tutti i complotti. Lo chiamano il piano, con la P maiuscola diventa il loro gioco di società, ogni giorno aggiungono degli elementi finché vengono proprio trascinati in questa deriva sovrainterpretativa di qualunque dettaglio, qualunque cosa che gli succede? Loro la infilano nel piano, che pian piano diventa un'escrescenza gigantesca, un complotto che copre tutto l'intero pianeta, che dura da molti secoli e che comprende tutti i templari, i massoni, i rosa croce, gli ebrei, tutti quanti e ad un certo punto si rendono conto di essere entrati in un mood in cui ogni cosa viene caricata di un significato enorme, c'è sempre qualcosa dietro, ogni cosa rimanda sempre a una sterminata molle di riferimenti, di possibili segreti e infatti qualsiasi dato diventa importante se connesso a un altro, dicono, la connessione cambia la prospettiva, induce a pensare che ogni parvenza del mondo, ogni voce, ogni parola scritta o detta non abbia il senso che appare, ma ci parli di un segreto, il criterio è semplice, sospettare, 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 si può leggere in trasparenza anche un cartello di senso vietato, ad un certo punto addirittura la modalità allucinatoria arriva qui, ieri sera mi è capitato tra le mani il manuale per la patente B, sarà stata la penombra o quel che lei mi aveva detto? Mi ha colto il sospetto che quelle pagine dicessero qualche cosa d'altro? Lì parte tutta un'interpretazione esoterica della descrizione del motore a scoppio, che c'è un segreto dietro, c'è un complotto, c'è un qualcosa. Questo che descrive Eco molto efficacemente, un grande politologo americano, Richard Hofstadter, lo ha chiamato lo stile paranoico, questa modalità di pensiero in cui si viene trascinati e da cui non si riesce più a uscire, lo chiama lo stile paranoico. Nel 1964 Hofstadter pubblicò questo saggio che è seminale, è proprio capitale nella storia dell'analisi delle teorie del complotto, the paranoid style in American politics e lui spiega subito all'inizio perché lo chiama stile paranoico, qui potete leggere tutti, dice non è questione di dire che queste persone sono paranoiche in senso clinico, perché attenzione se noi pensiamo che solo dei disturbati possono creare le teorie del complotto, allora non capiamo perché facciano presa, no? Dice infatti è l'uso di modi di esprimersi paranoici da parte di persone più o meno normali a rendere il fenomeno significativo, è per questo lo chiama stile, è uno stile paranoico, non è appunto il quadro clinico della paranoia in senso stretto, è uno stile in cui si rimane poi avviluppati, si comincia a ragionare, a pensare e a parlare così, ok? Questo è un libro fondamentale. Lo stile paranoico caratterizza le teorie del complotto, allora di fronte alle teorie del complotto noi abbiamo un problema, nel senso che c'è chi reagisce dicendo, cioè negando l'esistenza di qualunque complotto, che è chiaramente un'assurdità perché i complotti esistono, un complotto è semplicemente più persone che si mettono d'accordo tra loro all'insaputa di un terzo per danneggiare quel terzo, ok? E quel terzo poi può essere anche un ente collettivo, non è necessario che sia per forza una persona, no? Quindi ci vogliono, deve essere più di una persona, deve avere una dimensione collettiva, un complotto, si devono mettere d'accordo in segreto e l'intento deve essere malevolo. Se io e mio fratello ci mettiamo d'accordo tra di noi all'insaputa di mio padre per fare la festa di compleanno sorpresa di mio padre non è un complotto perché c'è collettività, segretezza ma manca l'intento malevolo, non stiamo complottando ai danni di mio padre, quindi esistono i complotti reali ed esistono anche i complotti politici, hai voglia, qua in Italia ne abbiamo visti tanti, la strategia della tensione e tutto quanto, ma c'è una differenza fondamentale, cioè ci sono sette caratteristiche che rendono diversi i complotti veri dai complotti che immaginano le teorie dei complottisti e qui ho fatto riferimento al complotto del Watergate negli Stati Uniti. Ricordiamolo sommariamente, il presidente degli Stati Uniti di allora, parliamo del 1972, era praticamente a capo di una cricca di loschi personaggi il cui compito era di spiare le attività degli avversari politici e di sabotarne anche le attività, a cominciare dal partito rivale, il partito democratico, ma poi l'attività era estesa ai movimenti contro la guerra in Vietnam, eccetera. Questa attività di spionaggio e sabotaggio, di cui il presidente Nixon era perfettamente al corrente, proprio era al vertice di questa struttura, era chiamato da questi personaggi ratfucking, cioè fottere i ratti. Questi personaggi avevano a loro volta dei sicari, degli scagnozzi che andavano in giro a fare queste azioni e erano chiamati gli idraulici, the plumbers, perché entravano negli appartamenti, insomma lo scandalo esplode, quando questi vengono beccati nella sede del partito democratico di Washington, che è dentro all'hotel Watergate di Washington DC, vengono scoperti mentre stanno mettendo delle cimici, dei microfoni nascosti e quindi da lì esplode tutto il caso, c'è la reazione a catena, c'è l'indagine di Woodward e Bernstein del Washington Post che poi culminerà dopo qualche anno nell'impeachment di Nixon. Proviamo a vedere le caratteristiche di questo complotto che è vero, accertato, ufficializzato e riscontrato e della cui esistenza nessuno può negarne l'esistenza. I veri complotti politici di solito hanno un fine preciso e specifico, in questo caso il ratfucking, cioè spiare gli avversari politici e sabotarne le attività. Due, coinvolgono un numero di attori limitato, cioè noi sappiamo esattamente chi era a capo di quella struttura lì, sono esattamente i collaboratori, i membri dello staff di Nixon che poi sono stati processati, sotto di loro c'erano appunto gli idraulici, i plumbers, ma anche quelli erano poca gente e sappiamo chi fossero. Vengono messi in pratica in modo imperfetto perché la realtà è imperfetta, questi qua si sono fatti beccare come dei ladri di polle mentre stavano mettendo i microfoni nascosti nella sede del Partito Democratico. L'azione che ne deriva è facilmente riassumibile, l'ho appena fatto, l'ho appena riassunto quello che è successo e ci ho messo pochissimo. Una volta che sono scoperte, denunciate e perseguite si constata che queste cospirazioni non sono durate a lungo. Qui è durato veramente una manciata di anni l'attività di questi personaggi del ratfucking. Una volta denunciate e perseguite le cospirazioni finiscono, i loro effetti possono persistere anche a lungo ma le operazioni cessano. Una volta che sono stati beccati i plumbers nella sede del Partito Democratico, il Watergate Hotel, il ratfucking è finito. È finito perché appunto sono iniziate le indagini e loro si sono fermati cercando di coprire le tracce, insabbiare cosa che non gli è riuscita. Ma poi soprattutto a un certo punto è stato cacciato via dalla Casa Bianca Nixon. Chiaramente ho scritto che gli effetti possono persistere anche a lungo, non solo perché ci sono voluti comunque quattro anni perché si arrivasse alla verità completa e definizione definitiva, poi all'impeachment di Nixon e tutto quanto, ma perché comunque il contraccolpo culturale, l'influenza del Watergate sulla società americana è stata lunga, si è trascinata per diversi anni e anche la crisi di sfiducia nei confronti delle istituzioni americane seguita al Watergate. Anche per questo motivo, per questo che ho appena detto, le cospirazioni non sono raccontabili fuori dalla loro epoca, sono immanenti dentro, sono dentro una fase storica precisa e diventano passato insieme a essa. Se oggi io dico Watergate, a tutti vengono in mente gli anni settanta, gli anni settanta americani, viene in mente il film Tutti gli uomini del Presidente con Robert Redford e Dustin Hoffman, viene in mente quella temperie lì, politica, culturale e sociale precisa. I complotti veri sono figli della loro epoca e diventano storia insieme alla loro epoca. Molto diversi sono i complotti di cui ci occupiamo stasera. Intanto questo è un esempio, questa è la mappa del Pizzagate di cui parlerò tra poco ed è una mappa ancora poco complicata rispetto a come si è ramificata in seguito. Quando questa teoria Pizzagate è praticamente confluita dentro la grande massa di racconto di QAnon, questo qui è forse un 10% dello schema che bisognerebbe tracciare, quindi è una roba intricatissima. Avete visto invece prima c'era Nixon con intorno a 5-6 collaboratori, già a livello visivo la cosa cambia molto. Se noi facciamo caso, proviamo a isolare le sette caratteristiche principali dei complotti di cui parleremo stasera, ognuna, ciascuna di esse è esattamente il contrario, esattamente l'opposto, il rovescio di quella della lista precedente. Quindi il complotto ha il fine più vasto immaginabile poiché mira a dominare, conquistare o distruggere il mondo. Cioè la posta in gioco è sempre il pianeta intero o l'intero universo, non è che c'è un fine specifico, dice questi controllano il mondo, controllano tutto, quindi non c'è un focus ristretto e si può dire qualunque cosa in questo modo. La posta in gioco è sempre tutto, l'intera realtà, l'intero campo del sociale, del politico, del culturale, addirittura del sovrannaturale, tutto il pianeta. Poi coinvolge questo complotto un numero di attori potenzialmente infinito che cresce, cresce e cresce a ogni reso conto, per un semplice motivo che chiunque dica guardate che quel complotto lì non c'è, diventa automaticamente un complice, gli rispondono immediatamente tu sei pagato per dire questo, per dire che non c'è questa cospirazione, chi ti paga, ti paga Soros, queste cose qua. Quindi è chiaro che i complici di questo complotto diventano legione, diventano esercito, diventano poi in buona sostanza tutti quelli che non sono d'accordo col complottista. Quindi è ben diverso da prima, dove si sapeva bene chi erano i cospiratori del Watergate. Poi la presunta messa in pratica di questo complotto è coerentissima, tutto fila liscissimo, tutto viene descritto come, svolto esattamente come pianificato, proprio nel particolare più, qualunque cosa succede, era previsto, era parte del loro piano, perché chiaramente lo stile paranoico fa sì che qualunque cosa succeda venga immediatamente integrata nella narrazione del complotto e quindi tutto fila liscio perché tutto è inventato ex post chiaramente, invece abbiamo visto come un complotto vero invece spesso ha delle sbavature tali che poi viene scoperto anche nella maniera più ridicola. Poi l'azione è talmente intricata e barocca da rendere impossibile un riassunto. Io stasera ci proverò a riassumere il fulcro, proprio il nocciolo, proprio il nucleo minimo di QAnon perché in realtà questi complotti di cui parliamo diventano talmente involuti, bisantini, ramificati, con sotto cospirazioni che al proprio interno hanno sotto cospirazioni, hanno una gittata lunghissima anche nel passato perché viene integrata praticamente tutta la storia precedente all'interno della narrazione e quindi vi dico fin da subito che io stasera non riuscirò a riassumervi tutta la storia di QAnon, cioè che cosa dicono nel complesso, non lo sanno nemmeno loro, nemmeno quelli che ci credono sono in grado di riassumerla davvero questa storia. Poi la cospirazione dura indefinitamente, alcuni complotti sono descritti come in corso da anni, decenni, secoli, il complotto dei Templari dura da 800 anni, vanno avanti quindi ben diverso dai complotti veri che abbiamo visto durano una manciata di anni. Poi, questo è importantissimo, la presunta scoperta e la denuncia del complotto non hanno nessuna conseguenza sul complotto stesso, cioè anche quando tu lo denunci quello continua, va avanti e il complotto è descritto come sempre proprio pienamente operativo in qualunque momento a dispetto di il fatto che ci sono complottisti che lo denunciano in tutto il mondo. C'è una mole enorme di libri che denunciano il complotto, di articoli, di documentari, di film eccetera, però il complotto va avanti. Ok, perché? Perché va avanti? Perché non esiste, quindi qualunque denuncia in realtà semplicemente alimenta la narrazione del complotto stesso. Questo crea una poria, chiaramente crea una contraddizione insolubile perché uno viene e ti descrive questo complotto, dici ci sono questi poteri occulti che controlla tutto quanto eccetera, al che tu gli rispondi ma scusa ma allora perché tu le sai queste cose? Cioè com'è possibile che tu possa denunciarle queste cose se questi controllano tutto? Come mai? Anche tu fai parte del complotto perché diventa chiaramente una cosa che si morde la coda continuamente ma loro non hanno risposte a questo tipo di domanda, ok? Perché l'unica risposta coerente sarebbe me lo lasciano fare o perché non conto assolutamente nulla o perché loro stessi mi controllano e quindi perfino la mia denuncia del complotto è parte del complotto. Lo stile paranoico porterebbe a questo. Sette, ultimo, anche per questo la narrazione del complotto trascende tutte le epoche, cioè è al di sopra della storia, il complotto è eterno, cioè vale a dire che se io dico Watergate vengono in mente gli anni 70, se io dico Piazza Fontana, Pinelli, Valpreda, il tentativo di dare la colpa agli anarchici nella bomba di Piazza Fontana mi viene in mente 69, 70, al massimo gli anni del processo a Valpreda, cioè ogni complotto reale mi fa venire in mente l'epoca in cui è avvenuto ma se io dico il complotto pluto giudaico massonico, quello va avanti, non è figlio di nessuna epoca, quello è in corso da sempre, è in corso da sempre e va bene qualunque epoca per definirlo. E quindi arriviamo a QAnon, dopo che vi ho detto queste caratteristiche le potrete riconoscere benissimo. Io prima ho fatto vedere lo schema del Pizzagate, il Pizzagate è una cosa che nessuno avrebbe ritenuto possibile, vale a dire nel 2016 c'è quel famoso leak, quella famosa fuoriuscita di dati per cui le mail di Hillary Clinton e del Comitato Nazionale del Partito Democratico a un certo punto vengono rese pubbliche da un hacker e poi anche da Wikileaks e la gente comincia a leggerselo. Dentro a un certo punto c'è uno scambio di lettere tra questo John Podesta che è il capo della campagna elettorale della Clinton per le presidenziali e il proprietario di questo ristorante pizzeria di Washington, il Comet Ping Pong, che si chiama così perché è una pizzeria ma anche i tavoli da ping pong, tu puoi andare a cenare e giocare a ping pong. Il proprietario di questo ristorante James Alefantis è un simpatizzante del Partito Democratico e si è reso disponibile per ospitare cene di finanziamento della campagna elettorale, c'è eventi benefit nel suo ristorante e c'è lo scambio di mail tra lui e John Podesta. Questo network complottista che è sempre lì in suppurazione nel sottobosco della cultura americana comincia a leggere queste cose e vede che in alcune mail l'espressione cheese pizza, pizza al formaggio, è abbreviata in CP e allora a un certo punto uno scrive ma CP sta anche per child pornography e automaticamente parte il delirio dello stile paranoico, la sovrainterpretazione di tutto. Cioè loro arrivano a teorizzare che in realtà quelle mail sono scritte in codice e in realtà stanno parlando di portare al Comet Ping Pong dei bambini che sono tenuti in schiavitù da qualche parte per fare dei riti satanici a cui partecipano anche la Clinton e tutti quanti e dicono che questi riti esoterico satanico pedofili e anche a spondo cannibalistico perché si beve sangue e cose del genere avvingono nei sotterranei del Comet Ping Pong solo che il Comet Ping Pong non ha i sotterranei, non ha neanche la cantina ma questo è un dettaglio da niente. Insomma praticamente questo ristorante diventa il centro di una cospirazione pazzesca, viene stalkerato Alefantis, il proprietario, insomma ne succede tutti i colori finché a un certo punto questo tizio che si chiama Welch entra armato minacciando di sparare tutti nel ristorante dicendo io sparo tutti se non liberati i bambini, liberati i bambini, liberati i bambini, per fortuna nessuno si fa male ma il tizio viene arrestato. Quando viene arrestato, cosa che succede nel 2017, anche a livello mainstream ci si accorge dell'esistenza di questo network di persone che crede a questo complotto che viene chiamato Pizzagate e che ha reso la vita quasi impossibile al proprietario del ristorante e al suo personale. Ad un certo punto succede una cosa che su 4chan, questo forum non moderato che sarebbe un image board, una bacheca per immagini che però è praticamente il luogo dove è nata l'alt right, è un luogo dove si può postare di tutto e si può discutere senza quasi alcun livello di moderazione, ad un certo punto cominciano ad apparire dei messaggi firmati Q, di un tizio che manda delle comunicazioni molto enigmatiche, molto criptiche e fa capire di essere praticamente un funzionario di alto livello governativo che ha un permesso, un salvacondotto, un pass per poter accedere a informazioni segrete riservatissime, questa pass è la Q clearance, viene chiamata così per questo lui poi si firma Q perché ha la Q clearance, dice ma questa è una cosa che viene fuori dopo, in realtà la Q clearance è una roba che riguarda il livello di sicurezza delle centrali nucleari, non c'entra assolutamente nulla, ma questo qua comincia a mandare dei messaggi allusivi, delle esche per questi network di destra e di suprematisti bianchi e di sostenitori di Trump che si trovano su 4chan e ne chiama crumbs, briciole, tipo pollicino, lascio qui delle briciole, in realtà andando a vederli uno per uno sono dei messaggi che non hanno il minimo senso, the future proves past, oppure learn to read the map, oppure godfather 3 e tutti sono andati a vedersi il padrino parte terza per capire cosa poteva esserci, e poi un sacco di sequenze alfanumeriche e poi il ritorno ossessivo del numero 17, c'è sempre il numero 17. Questa cosa crea una gran voglia da parte di tutti quelli che sono collegati su 4chan di capire quale potrebbe essere il significato, c'è anche una cosa ludica, erano come quelli che guardavano ossessivamente le copertine degli album dei Beatles per trovare riferimenti al fatto che in realtà Paul McCartney era morto nel 66 e quello che cantava nei dischi d'opera un sosia, erano chiamati i cluesters, quelli che cercavano i clues, gli indizi. Questi qua si autonominano bakers, fornai, perché prendono tutte le briciole e cercano di fare un impasto, di cogliere i riferimenti. A un certo punto la narrazione che viene creata dai bakers è chiamata la tempesta, the storm, perché viene collegata una frase allusiva che ha detto Trump il 6 ottobre del 2017 mentre riceveva dirigenti delle forze armate e le loro mogli e le loro famiglie alla Casa Bianca, mentre i fotografi stanno per fare la foto, lui dice could be the calm before the storm, la quiete prima della tempesta e i giornalisti si sente che gli chiedono nel video ma cosa vuol dire Presidente, quale tempesta? E lui ripete semplicemente la quiete prima della tempesta, ora che Trump molto spesso parli per dare aria alla bocca è una cosa che sanno tutti, chiunque segua la politica americana, però loro questo storm gli suonano, cosa potrebbe essere questo storm? Lì parte anche il collegamento col pizza gate, il pizza gate viene integrato all'interno di una nuova narrazione e la nuova narrazione è veramente sorprendente, perché questi qui dicono che c'è una rete di satanisti pedofili, una rete gigantesca che in realtà controlla il governo degli Stati Uniti è l'intero pianeta, è il vero governo occulto, i dirigenti, i capi di questa cricca di satanisti pedofili sono i Clinton, gli Obama, John McCain, poi ci sarà tutta una teoria del complotto dedicata solo a John McCain, che secondo loro non è morto di tumore ma si è suicidato, e poi Tom Hanks, a un certo punto si scatenano su Tom Hanks, non si sa bene perché, ma Tom Hanks diventa praticamente il capo dei pedofili, e poi Marina Abramovic, oltre naturalmente al jolly di tutte le teorie del complotto, George Soros, non ci può essere alcun complotto senza che ci sia dentro Soros, e questi cosa dicono? Che in realtà Trump è diventato presidente grazie ai militari, perché i militari hanno puntato su di lui per sconfiggere questi satanisti pedofili, quindi c'è una lotta al massimo livello del potere americano tra il governo legittimo, che è quello di Trump, e un governo occulto, che è quello dei satanisti pedofili. C'è una cosa che sta succedendo in quei giorni, è partita l'inchiesta Mueller, che è finita poi due settimane fa. L'inchiesta Mueller era quella, appunto dal nome del procuratore speciale Robert Mueller, che doveva indagare sulla possibile collusione di Trump con le presunte operazioni di hackeraggio e di disinformazione che avrebbero fatto i russi per mandarlo alla Casa Bianca, cioè le famose interferenze di hacker russi per fargli vincere le presidenziali. Quindi Trump è sotto inchiesta, ma loro riescono a trasformare questa storia che Trump è sotto inchiesta nel suo contrario, loro dicono la versione ufficiale di comodo è che Mueller sta indagando su Trump, in realtà sta indagando sui pedofili satanisti, ok? E sta indagando d'accordo con Trump, ma si sono messi d'accordo perché fuori si dica che in realtà l'uno indaga sull'altro. Dice che Mueller sta raccogliendo le prove dell'esistenza e dell'attità di questo network di pedofili satanisti e che a un certo punto quando consegnerà il rapporto, quando consegnerà il suo rapporto, dentro ci sarà scritto tutto questo e da allora sarà il grande risveglio. Il grande risveglio è il giorno in cui Obama, la Clinton, tutti i dirigenti del Partito Democratico, gran parte delle star di Hollywood, anche Robert De Niro, verranno tutti arrestati e portati a Guantanamo. Quindi loro cominciano a dire, al che? Uno si chiede, ma come mai voi lo sapete? E loro dicono, perché ce l'ha detto Q? Q ha il compito di avvisarci di questo. Ma perché? Perché rinunciare all'effetto sorpresa? Se in giro per internet si dice che un giorno Obama e la Clinton, eccetera, saranno arrestati e che l'inchiesta Mueller è contro di loro e tutto quanto, cioè perché dirlo? Cioè perché Trump sta scoprendo le sue carte in questo modo, no? E come mai quelli sono lì che aspettano passivamente di essere scoperti in quanto satanisti pedofili e non fanno particolari contromosse? Ma questa appunto, come dicevo prima, è la poria che sta al centro delle teorie del complotto, no? E quindi nasce questa teoria qui. Trump è considerato un genio, da quelli di QAnon, dicono Trump è un genio, il più grande genio di tutti i tempi, lui sta giocando una partita complicatissima che loro chiamano la partita scacchi in 4D. Quindi questo è il primo nucleo concettuale di QAnon. Poi succede che questa cosa prende piede perché da 4chan passa su Reddit, poi su YouTube dove ci sarà un proliferare di video su QAnon, poi su Twitter, ovviamente su Facebook viene lanciato un'app QDrops in cui uno riceve le briciole di Q direttamente sul telefonino, ancora non si sa chi sia Stoccu, che ogni tanto forse sono più persone probabilmente che ogni tanto manda queste briciole, alcune celebrità come l'attrice Roseanne Barr supportano attivamente e prendono posizione pubblicamente a sostegno di questa cosa di QAnon, del fatto che Obama e la Clinton sono dei satanisti e fanno le orge con i bambini e fanno sacrifici umani e bevono il sangue e lo sperma e tutte queste cose qua a casa di Marina Abramovic, sono cose che poi vengono rituitate in Italia da Marcello Foa che non è ancora presidente della RAI, però lui rituitava queste cose qua, diceva leggete e guardate, così ci sono tutti i tweet screenshotati. A un certo punto il 7 aprile 2018 Washington per la prima volta QAnon scende per strada, cioè seguaci della teoria del complotto fanno un corteo, fanno un corteo, sono solo in 200 però è l'inizio di qualcosa di grosso che dall'online arriva anche offline. Allora la prima domanda che viene in mente è ma ci credono davvero a questa portentosa serie di cazzate, diciamolo chiaramente, del Pizzagate, QAnon, questa cosa ma tutta questa gente ci crede davvero? Alcuni sì e altri no, perché è evidente che c'è gente che ci crede davvero ma è anche evidente andando a vedere che c'è gente che la usa per trollare questa cosa, usa per alzare l'asticella ogni volta più in alto di quello che si può dire, di quello che si può azzardare, del tipo di accuse che si possono fare i nemici politici. Io qui ho isolato e questi qui fomentano gli altri, caricano la molla a tutti gli altri. Al centro della community di QAnon ci sono alcuni che sono ben consapevoli del tipo di strategie che stanno adottando e intorno c'è gente invece che si beve tutto. Diciamo io qui prendo un intero stormo di piccioni con una fava chi fa questo gioco qua, perché uno, come dicevo prima, amplia la soglia del dicibile, quindi messaggi sempre più razzisti, fascisti, antisemiti, paranoici, calugnosi, difama gli avversari politici e culturali che devono essere lì a becarsi lo stigma addirittura di essere degli schiavisti di bambini e cos'è il genere, guadagna soldi perché fin da subito parte tutta una nube, un cloud di merchandising a tema e poi i video girati dai complottisti sono monetizzati, loro guadagnano con la pubblicità su YouTube e soprattutto lascia interdetti giornalisti dei media mainstream, i famigerati MSM. Perché le prime reazioni da parte della stampa e della tv mainstream è quella di dire ma com'è possibile queste cose che si dicano cose del genere, il tono è quello lì e chiaramente più il tono è questo e più quelli godono, si crea il classico circolo vizioso perché più appunto il tono è scandalizzato eccetera, più la community è contenta di aver trollato i media mainstream e per loro è una vittoria simbolica. Però io finora vi ho parlato di Q, di uno che si firma Q dicendo di essere un agente sotto copertura, di essere introdotto, di avere delle entrature nel potere, spedisce della disinformazione che poi crea delle conseguenze, ma non è che ci ricorda qualcosa questa cosa qui? E in effetti ci ricorda qualcosa e bisogna andare indietro di una ventina d'anni perché una ventina d'anni arriviamo al progetto Luther Blissett che io e molti altri animammo dal 94 al 99. Velocissimamente Luther Blissett era uno pseudonimo collettivo che era usato in Italia e in altri paesi da centinaia di artisti, attivisti, agitatori culturali e quant'altro per firmare le loro opere, le loro azioni, le loro performance e per ampliare diciamo la reputazione virtuale di una sorta di eroe popolare inesistente, la cui reputazione era la somma di tutte le volte in cui il suo nome appariva a firma di un'azione. Il volto ufficiale di Luther Blissett è questo che in realtà sono tre miei prozii, sono foto degli anni 30, morfati assieme a una foto anche di una mia prozia perché ci fosse un elemento anche lievemente androgino, sono foto degli anni 30 e 40 e è stata creata questo volto che è stato usato poi in diverse beffe, in realtà il nome Luther Blissett era stato preso in prestito da un calciatore britannico di origine caraibica che aveva giocato nel Milan una sola stagione disastrosa, la stagione 83-84, poi era stato praticamente dimenticato ma che poi dieci anni dopo per qualche motivo misterioso ha visto il proprio nome preso in prestito, all'inizio è rimasto anche un po' stranito, poi invece dopo era entusiasta nelle interviste, diceva sono entusiasta di questa cosa. Ecco, tra le tante campagne e azioni portate avanti da Luther Blissett, beffe mediati che abbiamo spacciato un falso scomparso a chi l'ha visto, ne abbiamo fatte di tutti i colori, facevamo appunto queste beffe delle fake news che poi rivendicavamo ma erano delle cose elaboratissime, ad un certo punto a Bologna succede che vengono arrestati tre esponenti di questa associazione, diciamo metallari chiamiamolo, i bambini di Satana con delle accuse gravissime appunto di aver abusato di bambini durante messe nere, di aver stuprato una minorenne durante rituali e cose del genere vengono arrestati e immediatamente criminalizzati, mostrificati a mezzo stampa diventano i cattivi per eccellenza, su Bologna cala una plumbe a cappa appunto di paranoia sul satanismo, i satanisti, satanisti dappertutto, però questa storia a leggerla bene non sta in piedi e noi cominciamo a fare una controinchiesta, la iniziamo nel 96, cominciamo a fare una controinchiesta, parliamo anche col collegio di difesa, ci documentiamo su questo genere di accuse e ci rendiamo conto che effettivamente Dimitri è vittima di una teoria del complotto, è vittima di una teoria del complotto e iniziamo una campagna di solidarietà molto strana fatta di controinformazione ma anche di beffe mediatiche retrospettivamente l'abbiamo chiamato debunking aumentato, vale a dire che non ci limitavamo a smontare la teoria del complotto che stava alla base dell'impianto accusatorio di questo processo ma abbiamo fatto ben di più abbiamo ad esempio inventato una setta satanica inesistente e l'abbiamo fatta agire per più di un anno e abbiamo anche inventato i cacciatori di satanisti, il comitato per la salvaguardia della morale, il COSAMO l'abbiamo chiamato, che di notte andava a caccia appunto di personaggi luciferini, interrompeva messe nere riempiva i satanisti di botte e mandava i resoconti di queste azioni ai giornali che senza alcuna verifica, senza alcun fat checking si bevevano tutto e pubblicavano e sembrava che appunto ci fossero appena fuori dalle nostre città ci fosse una lotta tra il bene e il male, i merdi e i boschi eccetera non esistevano né i satanisti né i cacciatori di satanisti, l'abbiamo portata avanti talmente a lungo questa cosa che è arrivata al Tg1 delle 20, poi l'abbiamo rivendicata e quando l'abbiamo rivendicata è crollata tutta e perché il senso era, abbiamo fatto vedere com'è facile fare allarmismo su questa cosa, come i giornali non verificano nulla ma queste balle le abbiamo inventate noi, ma quelle per cui Marco Dimitri è in galera non le abbiamo inventate noi siamo riusciti a far cambiare linea a Repubblica e all'Unità a Bologna, è rimasto solo il Carlino colpevolista su questo caso il clima intorno a questo caso è cambiato completamente e alla fine sono stati assolti con formula piena in tutti i gradi di giudizio addirittura risarciti per l'ingiusta detenzione e abbiamo scritto un libro dove raccontavamo questa campagna che avevamo fatto la PM del processo non ha gradito, ha fatto una causa civile perché dentro c'erano delle espressioni che lei ha giudicato ingiuriosa nei suoi confronti abbiamo perso la causa, però non c'era scritto che non era vero le dichiarazioni diceva che mancava la continenza della forma espressiva perché a un certo punto la chiamavamo aspirante Torquemada cose di questo tipo e quindi il libro è stato sequestrato, non è più pubblicabile, questo libro è un libro maledetto però si trova online, se uno volesse poi un resoconto più aggiornato di come è andata tutta questa vicenda è scaricabile gratis questo libro della giornalista d'inchiesta Antonella Beccaria Bambini di Satana, processo al diavolo, i reati mai commessi da Marco Dimitri con prefazione di Carlo Lucarelli che è uscito per stampa alternativa qualche anno dopo ma in cosa ci eravamo imbattuti noi? ci eravamo imbattuti esattamente in quello che sarebbe diventato il centro, il nucleo concettuale di Pizzagate e QAnon vale a dire nella leggenda metropolitana dell'abuso rituale satanico l'abuso rituale satanico appunto, quello di fare violenza sessuale su bambini per scopi rituali legati all'adorazione del demonio e cose di questo tipo, in realtà è stato giudicato una leggenda metropolitana da inchieste fatte addirittura dall'FBI da Scotland Yard eccetera, ma è rimasto alleggiante in giro è nata negli anni 70, questa leggenda metropolitana è stata resa popolare da una falsa testimonianza di questa Michelle Smith che raccontava di essere stata abusata per anni dai genitori satanisti e poi alla minima verifica è crollata, è venuto fuori che il libro era fiction ma intanto era stato un best seller in Canada e negli Stati Uniti e chi leggeva questa cosa era talmente suggestionato che gli si creavano in testa falsi ricordi e ricordava di essere stato violentato dai genitori da piccolo c'è stata tutta una epidemia di cause, di processi perché sono nate proprio dalle teorie del complotto cioè sembrava appunto che gli Stati Uniti fossero popolati ovunque di satanisti che usavano i bambini nelle orge questi processi poi sono stati delle caporetto per la pubblica accusa il più famoso è il caso McMartin di questo asilo in cui si diceva che succedevano le peggio cose legate appunto a abusi dell'infanzia a scopo satanico e alla fine è stato il processo penale più lungo della storia americana e sono stati assolti tutti in Italia abbiamo avuto diversi casi fotocopia del caso McMartin perché la leggenda metropolitana e la teoria del complotto a un certo punto negli anni 90 scavallano l'oceano abbiamo avuto il caso dei bambini di Satana Bologna e il caso di Diavolo della Bassa a finale Emilia su cui poi aveva fatto la magnifica inchiesta Veleno, Pablo Trincia insieme ad Alessia Raffanelli l'audio serie che si trova sul sito di Repubblica che ha riaperto il caso e che adesso è anche un libro uscito per in audio e l'altro è stato Rignano Flaminio Rignano Flaminio era identico al caso McMartin e anche lì non c'era assolutamente nulla e tutto è successo con degli interrogatori dei minori fatti fuori da qualunque protocollo con delle domande fortemente suggestive che hanno praticamente creato nella testa dei bambini le immagini che avevano in mente psicologi e inquirenti o genitori allarmati quindi è successa questa cosa se uno poi volesse approfondire sull'abuso di piste sataniche e piste esoteriche da parte della magistratura inquirente italiana ci sono anche dei casi qua a Perugia si può vedersi sul nostro blog JAP può andare a cercarsi questa miniserie in tre puntate i satanisti ammazzano al sabato della giornalista e criminologa Selene Pascarella ora l'abuso rituale satanico dopo le sconfitte in tribunale non era proprio scomparso perché le teorie del complotto e le leggende metropolitane non scompaiono mai però tornano sotto il pelo dell'acqua della cultura ma succede una cosa nel 2014 che esce la prima stagione della serie True Detective che è tutta basata sull'abuso rituale satanico e quindi ritorna prepotentemente nell'immaginario collettivo l'abuso rituale satanico a scanso di equivoce è una serie bellissima il problema è che è basata su una leggenda metropolitana e non tutti sanno distinguere finzione e realtà ma succede una cosa importante si crea una sorta di sinapsi culturale che prima non c'era in True Detective vale a dire l'abuso rituale satanico viene collegato al mondo della politica perché adesso non voglio spoilerare ma chi ha visto la serie sa che c'è questo collegamento l'abuso rituale satanico è collegato proprio agli alti livelli della politica dello stato della Louisiana e questo vedremo che uscirà da True Detective ed arriverà nelle teorie del complotto circolanti e poi è difficile non notare somiglianze tra alcuni dei personaggi che animano QAnon, Pizzagate eccetera eccetera che compaiono nelle cronache e Rust Cole il personaggio l'indimenticabile protagonista di True Detective quindi dopo il 2014 l'abuso rituale satanico ritorna fuori con prepotenza tutte queste cose però noi le avevamo scoperte facendo controinchiesta sul caso dei bambini di Satana eravamo arrivati fino alla soluzione del caso McMartin e anche dopo e quindi ci eravamo resi conto e grazie a quel sapere lì che poi abbiamo anche trasmesso a giornalisti eccetera siamo riusciti a fare una campagna per far assolvere Marco Dimitri Pier Giorgio Bonora e Gennaro Luongo ok subito dopo quattro di noi tutti reduci di questa controinchiesta sull'abuso rituale satanico abbiamo pubblicato il romanzo che stavamo scrivendo da anni che è stato il nostro romanzo d'esordio Q ok che è uscito nel 99 in Italia poi è stato tradotto in 30 paesi eccetera eccetera ora se noi vediamo cosa c'è al centro di Q Q si svolge per più di 30 anni quasi 40 insomma in Europa tra Germania Paesi Bassi Svizzera Nord Italia eccetera è una sorta di confronto a distanza di sfida a distanza tra un rivoluzionario e una spia del potere tra appunto un anabattista che non ha nome o meglio cambia nome continuamente il nome per cui rimane inciso nella testa di chi legge il romanzo è Gert dal Pozzo ma è solo uno dei tanti ok che prende e poi c'è questo agente provocatore papista che infiltra le insurrezioni contadini i movimenti ereticali per sabotarli per lui manda delle lettere manda delle lettere dicendo di essere molto introdotto nel potere di avere delle entrature di avere l'accesso a informazioni riservate si firma Kohelet che sarebbe l'espressione ebraica originale dell'Ecclesiaste uno dei libri della Bibbia che vuol dire colui che raduna il radunatore e grazie a queste informazioni false che spaccia a queste operazioni false flag direbbero i complottisti oggi riesce a far reprimere le rivolte del del sedicesimo secolo e ogni tanto fa rapporto al suo capo che è appunto il cardinale Carafa il capo che poi diventerà il capo del santo ufficio dell'inquisizione e poi diventerà papa Paolo IV con delle lettere che sono firmate Q ok nel 2004 Q esce negli Stati Uniti viene pubblicato dall'editore Harcourt negli Stati Uniti quindi prima c'eravamo fatti una domanda no? torniamo al 2018 c'eravamo fatti una domanda non ci ricorda qualcosa QAnon è come se ci ricorda qualcosa tanto che a un certo punto noi siamo bombardati di mail dagli Stati Uniti di gente che dice ma avete visto cosa sta succedendo sembra il vostro romanzo ok e noi leggiamo un po' di cose e questo è il nostro primissimo tweet sulla vicenda e del 12 giugno del 2018 un tizio sta usando lo pseudonimo Q posando in modo obliquo come un dipendente statale un funzionario statale sotto copertura e sta spacciando noiose stronzate ai nasi sembra che qualcuno stia usando il nostro romanzo Q e il manuale di strategia di Luther Blissett per fare cosa? prendere per il culo l'altrite? ok questo è il nostro primissimo tweet oltreoceno non viene notato più di tanto ok perché QAnon non è ancora non ha ancora fatto la sua irruzione nel mainstream però ha testimonianza che noi qui cominciamo a occuparci della cosa perché vediamo questo incredibile insieme di somiglianze tra il nostro lavoro sull'abuso rituale satanico il nostro romanzo Q e questa teoria del complotto è possibile che qualcuno si sia ispirato al nostro lavoro di quando eravamo Luther Blissett per avviare questa cosa e perché è una beffa come quelle che facevamo noi è un tentativo di beffa se è un tentativo di beffa però come minimo è scappata di mano ok quindi forse non era il caso cominciamo tutte queste ma nel frattempo mentre noi facciamo queste elucubrazioni QAnon e rompe e rompe nel mondo reale succede di tutti i colori nell'estate del 2018 vengono arrestati personaggi che si presentano armati fino ai denti chiedendo chiedendo delle cose che sono legate a QAnon oppure fanno degli attentati veri e propri un tizio si mette di traverso con un furgone blindato sul ponte della diga Hoover in Nevada per bloccare il traffico e fa delle richieste legate a QAnon eccetera un altro tipo eh sì un altro tipo invece guida una milizia armata in cerca di questi misteriosi campi dove sarebbero dove sarebbero chiusi i bambini che poi devono essere portati al comet ping pong un altro pare che abbia appiccato il più grande incendio nella storia degli Stati Uniti quello che ha divorato la California l'estate scorsa il cosiddetto holy fire quindi ne succede di tutti i colori no? e poi anche questo tizio viene arrestato perché ha minacciato di morte ha minacciato di morte l'amministratrice delegata di Youtube perché dice che i suoi video su QAnon vengono boicottati e demonetizzati in realtà è il contrario perché arrivano da molti osservatori le critiche all'algoritmo di Youtube che premia il materiale complottista nei suggerimenti che ti dà Youtube è pieno di roba complottista di roba QAnon di roba Pizzagate e tutto quanto e quindi si crea una sorta di egemonia culturale del complottismo su Youtube è una cosa che poi Youtube ammetterà e dirà che insomma correremo ai ripari lo ha detto nel gennaio scorso ma non si è ancora visto niente no? ecco e poi succede una cosa che a un comissio di Trump il 31 luglio a Tampa in Florida arriva una marea di gente con magliette i cartelli di QAnon con striscioni con scritto noi siamo Q eccetera e praticamente rubano la scena al Presidente e se ne accorgono tutti e quindi escono articoli sulla stampa nazionale e per la prima volta anche fuori dagli Stati Uniti escono un sacco di articoli vengono fatti i servizi TV su questo strano culto che si è creato nella base di Trump un culto che accusa Obama la Clinton e gli altri di essere dei satanisti i pedofili dice che verranno arrestati a Guantanamo l'inchiesta a Moller in realtà non è contro Trump eccetera quando succede questo su 8chan dove nel frattempo si è spostato tutto il culto perché è un forum ancora meno moderato dentro si trova pedopornografia paradossale che questi dicono di fare un'inchiesta contro i pedofili e sono in un forum dove c'è pedopornografia vera commenta benvenuti nel mainstream welcome to the mainstream we knew this day would come e Trump comincia a giocare con l'immaginario QAnon a fare degli ammiccamenti perché comunque lui è lusingato che esista questa teoria del complotto dove lui è un eroe è un genio sta combattendo una crociata contro i pedofili eccetera e addirittura riceve un complottista di punta di QAnon nello studio ovale e si fa la foto insieme a lui quel tizio là Lionel Lebron è uno dei massimi spacciatori di ciarpame QAnon quindi c'è anche questo gioco sommamente irresponsabile di dare una sorta di riconoscimento a questo culto ok ora cinque minuti ma come vi dicevo non finisco e finiremo la metterò online no di fronte a questo che sta succedendo no di fronte a questo che sta succedendo noi ci facciamo un po' di domande sulle teorie del complotto in generale e perché c'è QAnon quali sono i bisogni profondi che QAnon in qualche modo intercetta e a cui dà delle risposte deviate chiaramente pericolose e tutto quanto perché non può non esserci un'esigenza reale di fondo nella società americana a cui QAnon ha risposto altrimenti non sarebbe diventato un fenomeno di massa e come si risponde a QAnon ok cioè come si risponde in generale al complottismo e noi quindi vediamo due errori che vengono fatti sempre uno pensare che basti forare il palloncino ok e l'altro pensare che prendere in giro i complottisti serve a qualcosa forare il palloncino sono ad esempio quegli scettici e quelli debunker che pensano che una volta che tu hai dimostrato che una teoria del complotto è falsa l'hai smontata e invece no altrimenti non sarebbero ancora in giro i protocolli dei salvi anziani di Sion non basta dire che una teoria del complotto è falsa perché evidentemente la questione non è verità falsità ma servono a qualcos'altro le teorie del complotto in questo caso qui vediamo che ad esempio QAnon elimina una dissonanza cognitiva cioè canta le gesta di un Trump mitologico man mano che ci si rende conto che il Trump reale è un mantecatto in buona sostanza no e più si c'è una cosa io ho votato per questo io accetto medio bianco timoroso di impoverirmi eccetera ho votato questo che però per me non sta facendo nulla in realtà sta parlando di tutt'altro sta parlando solo del muro al confine col Messico addirittura è accusato di collusione con i russi insomma arrivano tutti dei messaggi problematici questi che hanno votato Trump arrivano a tutta una congerie di messaggi che li mettono in crisi e per compensare per non farsi mettere in crisi per non cedere alla disillusione per compensare la dissonanza cognitiva aderiscono in massa a questa cosa e dicono non è vero che Trump per noi non sta facendo niente di nascosto sta combattendo contro i pedofili satanisti ok e quindi questa è già un'esigenza allora quindi che sia vero che sia falso è relativo poi chi è non è un movimento è un'esperienza ludica è un gioco è un gioco di realtà alternata è un gioco di ruolo dal vivo offre una causa per cui mobilitarsi un senso di comunità un'esperienza basata sulla collaborazione appunto i bakers che tutti insieme in rete interpretano i messaggi le briciole aggiungono dei pezzi e molte persone là fuori nella grande provincia americana dove c'è è stata un'atomizzazione dei rapporti sociali un affievolirsi del legame sociale del senso di comunità e tutto quanto dove ci sono queste città fantasme eccetera molte persone hanno solo QAnon come occasione di far parte di qualcosa di collettivo infatti Ben Collins nella NBC ha scritto così tante cose nella società americana sono dovute fallire ok questo è proprio uno scacco della società americana perché della gente potesse vedere una speranza e una possibilità di mobilitarsi insieme eccetera eccetera in QAnon qua ci sarebbe un video ma non lo faccio vedere è semplicemente la folla QAnon che sta fuori da un altro comizio di Trump poi QAnon risponde a un bisogno di stupore di meraviglia di mistero di vita aumentata è lo stesso motivo per cui ci affascina il paranormale è lo stesso motivo per cui frotte di persone vanno dai maghi e cose di questo tipo è lo stesso motivo per cui appunto il perturbante ha sempre la sua presa perché noi effettivamente abbiamo bisogno di mettere del sale nella vita abbiamo bisogno di una vita che trascenda a se stessa dove ci sia della sorpresa della meraviglia dello spiazzante ogni tanto QAnon e in generale i complottismi forniscono tutto questo e soprattutto incanalano le nostre ansie in una narrazione che sembra spiegare tutto ok e quindi mi si riduce il livello di ansia perché ah ecco non capivo cosa stava succedendo ma QAnon mi spiega che cosa sta succedendo un'altra cosa è che le teorie del complotto questo è molto importante intercettano e dirottano il bisogno di opporsi al potere perché chiaramente c'è un malcontento generalizzato però confuso vago sordo che non sa bene con chi prendersela ok e quindi le teorie del complotto sono delle narrazioni diversive questo malcontento lo intercettano però lo dirigono verso falsi bersagli verso quelli che abbiamo chiamato conflitti surrogati quindi i cortei contro le scie chimiche cioè ci sono tanti motivi per cui fare dei cortei al mondo però lo fai per le scie chimiche oppure il presidio il picchetto per denunciare il fatto che gli americani si sono fatti solo l'attentato dell'11 settembre questa è gente che si mobilita che a modo suo fa politica ma la fa su delle battaglie che sono completamente fuori dal centro cioè che allontanano dai poteri reali cioè quindi fanno sprecare delle energie fanno sprecare delle energie in conflitti che portano lontano dal vero insomma dal vero conflitto che andrebbe fatto questo si vede benissimo ultimamente appunto finalmente si parla di clima in maniera appunto più intensa che in passato si è riusciti a forare in qualche modo lo schermo se noi guardiamo le teorie del complotto legate legate al pianeta all'atmosfera eccetera vediamo che avviene questa cosa che ho appena spiegato vengono a dirmi che devo finire finisco solo questo riquadro e poi finiremo online tutti assieme perché siamo siamo poco oltre la metà e le scie chimiche sono un esempio di questo e la guerra climatica la teoria delle scie chimiche si è evoluta in un'altra teoria che è quella della guerra climatica cioè che è vero che il clima sta cambiando ma questo è dovuto a un complotto è dovuto a un complotto ci sono dei poteri forti che sanno con delle tecnologie dirigere il clima come vogliono loro e stanno facendo una guerra climatica all'Italia ok quindi anche questo senso umbilicale cioè ci sono questi che possono dominare il clima e cosa fanno fanno la guerra all'Italia ok c'è questo insomma provincialismo ombelicalismo eccetera e si è evoluta dalle scie chimiche questa cosa questa cosa qui praticamente queste teorie servono a incanalare l'ansia e la dissonanza cognitiva nei confronti del problema del cambiamento climatico dissonanza cognitiva perché lo sappiamo da decenni che la cosa sta succedendo ma nessuno che ha il potere sembra fare qualcosa e anzi anche senza il sembra e quindi la domanda nell'inconscio di tutti noi è ma com'è possibile che le cose siano messe così male se nessuno fa nulla e quindi queste teorie queste narrazioni diversive incanalano quest'ansia e risolvono questa dissonanza cognitiva alcune sono proprio di stampo negazionista dicono che non è vero che c'è il cambiamento climatico altri dicono che c'è ma ha altre cause e sta avvenendo in un altro modo e altri hanno delle spiegazioni alternative ad esempio la teoria della sostituzione etnica in maniera indiretta è una teoria sul clima perché rifiuta di capire che ci sono parti del mondo che sono condannate all'inabitabilità che ci sono milioni di profughi climatici che premono e che aumenteranno lo dicono tutte le previsioni loro dicono non è vero che se ne vanno da lì perché c'è la siccità c'è la carestia c'è la povertà ci sono le alluvioni la loro città è finita sott'acqua è stata distrutta da un uragano che lì non ce n'erano mai stati e tutto quanto dicono no è una sostituzione etnica c'è un piano per farci sostituire dai negri ed è pagato da Soros tutto quanto quindi in questo senso queste teorie del complotto sono legate a quello che sta succedendo al clima purtroppo ero a tre quarti ma l'ultimo quarto non riesco a farlo prometto che la riregistro tutta questa qui e la metto online e poi vi darò il link perché dopo c'è tutta la parte su come siamo intervenuti noi nella querelle di QAnon ma mi fermo qui perché ci sono le esigenze della sala grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.